Silvano Ecca Silvano Ecca Silvano Ecca Il momento abbiamo attivato circa 39 nuove contas, dove sicuramente ci va a dare molta opportunità di negocio. Credo che con questo, più di più di satisfezzi, siamo ben sicuri di che il prossimo anno sarà molto meglio. Buongiorno, mi nome è José Orlando Giraldo e lavoro per TV Automotive. Per noi è una esperienza fenomenal, di essere qui in questo show, in questa prima edizione del show. Siamo veramente uno dei pionieri, fuimos pionieri in Panamà e chiusi essere pionieri anche qui. Grazie a tutti con il comitato organizzatore, grazie per la invitazione, per la esperienza e speriamo che i prossimi anni continuano crescere e ci seguiremo accompagnando. Grazie mille. Mi nome è Carlo Rodríguez, lavoro per la empresa SSF Import Auto Parts. e la nostra esperienza con il sr. Caballero fuo excelente. Desde il principio ci ha dato la mano in tutto quello che pudo e fu una esperienza magnifica. Molto, molto buona. Tuviamo molto più trattato, specialmente il giorno di ayer. Quindi è stato magnifico. Ci ha avuto molto bene, è una esperienza molto grata. E speriamo che il prossimo anno sia concorriendo più gente. E lo invitiamo per che vengano in prossimi anni. Ayer fu il primo giorno del show. È stato molto buono. Esa gente ha fatto un buon lavoro invitando gente. Conocevano molta gente che non lo conosceva. E c'è la possibilità di fare negozi. Durante questi due giorni di exposizione abbiamo ottenuto una gran accettazione del pubblico che ha venito. Molto partecipanti del Islas del Caribe e del Centroamérica e sono molto interessati in i nostri prodotti. Ci siamo alla ordine per qualsiasi necessità che abbiano e speriamo venire nel prossimo anno. Ci siamo molto satisfezziati con la partecipazione in questo evento. Consideriamo che è stato molto interessante avere contacto con gente di mercati a cui non avevamo accesso, come è la gente del Caribe che ha venuto a visitarci. Ci siamo molto satisfezziati con il risultato e è molto probabilmente che siamo qui. e essere qui nel prossimo anno. Ci siamo qui presenti in la Expo con una molto buona esperienza per essere la prima volta. E speriamo ripetire. Ci siamo molto contenti con la fia anche fu un po' piccola, poco exhibitora. Sin embargo, fu di buon tráfico. La pulsaron bastante bene questa gente per traere tráfico caribello, molti centroamericano che venivano per invitazioni delle che exhibiamo. in generale, fu una piaccia positiva, disposti a tornare. e speriamo che le clienti che noi visitano anche se lleven una immagine positiva per che la fia si stia crescendo e spero che si ripetano. in generale. Abbiamo avuto un buon momento qui. Abbiamo avuto un po' divertimento. Abbiamo incontato un po' di persone da diversi paesi e questo è quello che stiamo cercando. Abbiamo cercando delle caratteristiche che cercano di exportare prodotti di Stati Uniti in America Latina. Abbiamo incontato un po' di persone che potrebbero imparere e abbiamo incontato un po' di persone da diversi industrie che potrebbero creare nuove per noi. Abbiamo molto contento di aver partecipato in questa prima versione del show Autoamericas qui in Miami. Una riunione di negozi, un meeting di negozi, di networking, veramente molto importante. non solo conoscere altre empresas, conoscere altri sectori associati al sector automotriz, ma fare molto buoni contatti per la nostra feria Expo Partes in Bogotà il prossimo 21, 22 e 23 di junio in Colombia. Grazie a tutti!